Ci sono diverse strategie di trading che si possono utilizzare in determinati momenti e che possono aiutarti molto anche a cavalcare alcune fasi di mercato. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e oggi andiamo a parlare di nuovo di una strategia di trading, una strategia di trading intraday che può essere utilizzata esclusivamente nella giornata di trading e quindi molto molto veloce che utilizzerà delle tecniche anche veloci e che utilizzerà anche i livelli di Fibonacci. Ma non sono i classici livelli di Fibonacci, quindi è una spiegazione molto semplice e banale di cosa fanno e cosa significano, ma semplicemente è l'utilizzo dei livelli di Fibonacci in una strategia un po' più complessa, ma comunque sempre basilare che può essere compresa un po' da tutti quelli che sono qui in questo momento e che state seguendo questo video. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto lasciatemi i pollicioni, mi aiutate con l'algoritmo e ovviamente ringraziamo lo sponsor di oggi che permette anche questi tipi di lezioni, questi tipi di video ragazzi ed è BitGet, uno degli exchange più importanti in questo momento per i trader italiani e soprattutto per il trading nei mercati delle criptovalute sui future, ma anche sullo spot. BitGet ci rende possibile in pratica questo tipo di contenuti e poi soprattutto io lo utilizzo già da un bel po' di tempo, anche accostato ai miei trading system, lo utilizziamo anche in Academy, quindi riesco a comprendere anche la stabilità dell'exchange anche in momenti di estrema volatilità. Finora, devo dire la verità, non mi ha deluso e anche altri exchange fanno le stesse cose, però BitGet, devo dire la verità, anche a livello di slippage non è affatto malaccio ragazzi e quindi quando si tratta di fare trading intraday, quando si tratta di fare trading nell'immediato è molto importante avere un broker, un exchange che vi permette di avere velocità nella esecuzione, non si impalla tra virgolette, quindi non si imblocca quando ci serve, nel momento in cui c'è molta volatilità ci fa uscire dall'operazione, soprattutto prezza i prezzi giusti, cioè questo pricing di order book si muove in maniera corretta. Vi lascio il link in descrizione con le super offerte per chi vuole accedere e provare BitGet ragazzi, ma noi passiamo subito alla strategia. Primo punto da andare a vedere, la ratio della strategia, la ratio della strategia qual è, che cosa fa. Allora, andiamo a tradare un trend in un mercato, in questo caso utilizzeremo come asset Bitcoin, andiamo a tradare il trend di Bitcoin nel day trading, quindi faremo esclusivamente delle operazioni all'interno della singola giornata e poi in particolare non vogliamo andare a utilizzare una tecnica di breakout, cosa significa di breakout? Cioè significa che noi andiamo ad acquistare in long position, quindi andiamo a fare un buy dell'asset, in questo caso Bitcoin, quando Bitcoin ha forza, bensì attenderemo un ritracciamento di Bitcoin, perché useremo appunto i livelli di Fibonacci. Quindi la generale che cos'è questa strategia e cosa fa, andiamo a usare l'orizzonte temporale di breve periodo, brevissimo periodo, non breve periodo, proprio brevissimo, cioè un giorno, quindi proprio trading puro, andiamo a utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci e quindi non una strategia di ingresso al breakout del livello e quindi quando il mercato inizia a salire, per esempio in questa fase ragazzi, potevamo andare in acquisto in questa zona e sarebbe stato un acquisto di breakout in questa fase qui, no? Noi invece aspetteremo un ritracciamento, quindi andremo ad attendere che il mercato faccia una cosa del genere per provare a entrare in queste zone e poi successivamente andare a seguire un trend che si starà formando. Quindi questa è l'idea generale, il time frame, primo punto da decidere. Se fate trading di natura daily, quindi day trading, i time frame da utilizzare sono dall'orario, dal time frame 1H in giù ragazzi, anche l'orario secondo me è un po' lungo, anche su Bitcoin è un po' eccessivo come durata, però possiamo utilizzare dal time frame 1H a 30 minuti, a 15 minuti, a 5 minuti. Sotto i 5 minuti non andrei assolutamente, io in questo caso utilizzerò il time frame a 15 minuti. Spoilerone, il time frame è strettamente collegato con una rete blockchain, potremmo dire, collegato al time frame, all'orizzonte temporale della vostra operatività. Nel momento in cui utilizzo un'operatività che ha un orizzonte temporale di una settimana, devo utilizzare un time frame differente da quello che stiamo vedendo ora, cioè coerente alla vostra orizzonte temporale. Il concetto di coerenza è importantissimo nello sgruppo delle strategie di trading, ne parlo in maniera estremamente approfondita nel mio corso Basic 2.0 che vi dà il mindset e vi elimina la confusione nella materia del trading e vi fa anche comprendere come investire nel modo giusto, quindi non soltanto fare trading ma anche investire nel modo giusto ed è fondamentale il concetto della coerenza, quindi non dimenticatelo. L'idea di fondo quindi di questa strategia ragazzi è andare a attendere un po' un praticamente un ritracciamento di un trend che già si sta delineando, quindi come ad esempio in questo caso un trend che si sta delineando, attendere un ritracciamento, entrare su questo livello di ritracciamento e poi seguire il trend fino al nostro take profit che poi andremo a impostare appunto nella strategia o eventualmente a un caso di stop loss qualora appunto il trend dovesse invertire. Quindi concettualmente proprio quello che vi ho descritto in questo momento è quello che andrà a fare in sostanza questa strategia. Vediamo se riesco a ingrandirvi un po' tutto quanto. Ok, ho messo il grafico centrale perché tanto svilupperemo quasi tutto sul grafico. Allora, come partiamo nella definizione del nostro trading plan di questa strategia? La definizione di un trading plan significa andare a definire quella che è una strategia di ingresso, che cosa utilizziamo per definire l'ingresso, quale trigger operativo ci darà il segnale buy per esempio dell'asset, in questo caso bitcoin, come gestiamo il post acquisto, quindi la gestione dell'uscita, stop loss e poi take profit, più o meno in linea di massima. Questo è la creazione di un trading plan. Senza trading plan nessuna operatività di trading può essere effettuata e quindi è l'ABC proprio del trading, ragazzi. Ovviamente non sono consigli finanziari, mi raccomando ragazzi, mi ero dimenticato di dirlo. Ovviamente quello che vediamo oggi sono tecniche, quindi formazione di trading. Alla fine del video vi dirò anche che tipologia di difetti hanno questi tipi di strategie, così riuscite anche a comprendere alcune cosette. In molti pensano che una strategia di trading debba essere utilizzata come un bottone da premere su uno smartphone, non on, off, on, off, ragazzi. E quindi funziona, non funziona. Le strategie di trading, essendo ambientate in un sistema aleatorio, hanno una percentuale di funzionamento e una di non funzionamento, diciamo così. Quindi non è possibile avere strategie che funzionino sempre e in ogni determinato momento. Questo perché siamo nell'ottica del trading e quindi siamo nell'ottica dei mercati finanziari che hanno una struttura aleatoria. Il risultato di una strategia ben impostata, corretta, strutturata nella maniera perfetta può essere comunque negativo perché il mercato può avere un altro tipo di andamento. Quindi ricordate, quando vi avvicinate a questa materia, non è per essere certi che una cosa funzioni o no, ma è per comprendere come una strategia deve essere impostata e poterne trarre vantaggio, che nella stragrande maggioranza dei casi è molto positivo, ragazzi, rispetto a non avere nessuna strategia, perché non avere nessuna strategia vi lascia vittime del mercato e in alcune situazioni in varia di un mercato che può essere veramente difficile da gestire. Allora, detto questo, andiamo a impostare la nostra strategia. Punto primo, dobbiamo andare a individuare un trend di natura ribassista, quindi non dobbiamo andare a cercare un trend di natura rialzista, bensì inizialmente dobbiamo vedere un trend a ribasso perché noi agiremo dopo che quel trend è stato invertito. Quindi andiamo sul nostro grafico a 15 minuti. In questo caso, guardate, in questo punto, molto interessante, ecco il trend ribassista che si è andato a verificare. Come si identifica un trend ribassista? Vedetelo all'interno dei miei video, ho fatto milioni di esempi, in linea di massima è abbastanza facile da vedere, basta andare a controllare massimi e minimi e devono essere decrescenti, quindi tutti i massimi e tutti i minimi devono essere decrescenti, quindi vedete i massimi che scendono, i minimi qui laterali e poi discesa. Quindi vedete, questo è un trend al ribasso, questa è statistica di base, ragazzi, va bene? Una volta identificato il trend ribassista, noi dobbiamo andare a guardare il successivo movimento dei swing. Poi ci serve un concetto. Possiamo utilizzare quelle che sono delle medie mobili per avere più familiarità con questo tipo di logica e quindi verificare se all'interno di quelle medie mobili quel mercato, quell'asset finanziario, si sta muovendo in modo da invertire appunto quello che è il suo andamento. Cioè, se noi andiamo a utilizzare queste due medie, per esempio, vediamo che in questa zona, quando il mercato si rialza sopra le medie, lo inverte. Però le medie mobili, soprattutto in time frame molto stretti, come questo a 15 minuti, hanno tanti, tanti difetti. Ora, io in questo momento sto utilizzando una media a 24 periodi e a 48. Perché sostanzialmente utilizzo queste sul time frame a 15 minuti? Perché sono medie create in base al time frame. Anche queste le medie, i setting dei parametri, va creato in base al time frame che andate a utilizzare. Che è questo ampiamente spiegato nel mio corso, ragazzi, di informazione. È l'ABC del trading. Comunque trovate informazioni online, anche su queste cose, in maniera abbastanza semplice. Perché si settano in base al time frame e non in maniera arbitraria? Perché devono essere rappresentative di quello che succede in un lasso temporale preciso. Nel caso specifico, io ho utilizzato 24 barre da 15 minuti, che sono essenzialmente 360 minuti, che quindi corrispondono a 6 ore, ragazzi. E poi ho utilizzato le 48 barre, che, indovinate un po', corrispondono a 12 ore. In pratica ho utilizzato una media che è metà del giorno, e una media che è un terzo, cioè una metà della metà, quindi una quarto del giorno, va bene? Quindi sostanzialmente, questo modo mi dà la possibilità di avere una rappresentazione a 6 ore e a 12 ore del prezzo dell'asset sottostante. Siccome io sto facendo trading intraday e sto sviluppando questo tipo di logica, ovviamente mi interessa vedere come si muove durante la giornata. Questo significa che se io sono all'interno di questa fase, in questo momento, in un trend al di sopra delle medie, le medie hanno invertito, mi stanno dicendo che il trend è, nelle ultime 6 e 12 ore, il girato al rialzo. Ovviamente è una indicazione, ma non useremo come unica indicazione questa. Ve lo dico perché c'è un bonus alla fine del video che vi spiegherò come utilizzare queste medie per i trader già scaltri da alcuni punti di vista, ma è molto più difficile. Però, in sostanza, quello che invece è la strategia di base che andiamo a utilizzare è fare questo. Attendere che nell'inversione di trend, in questo caso, il mercato vada a superare il massimo precedente. Quindi, questo livello che io vado a prendere deve essere superato dal mercato. Quindi, prima cosa da attendere, andare a vedere che ci sia un mercato ribassista. Seconda cosa da attendere, aspettare un'inversione di trend del mercato. E questa inversione deve superare il precedente livello di massimo, in questo caso così. Una volta che io ho attivato queste due variabili, vado a utilizzare i ritracciamenti di Pibbonacci per andare a comprendere, essenzialmente, dove inserire il mio buy the tip, in questo caso. Cioè, dove andare a comprare su un semplice ritracciamento. Facciamo l'esempio in questione. Allora, qui il grafico supera il precedente livello, ci dà l'ok al trigger, dopodiché il mercato continua la sua fase di risalita. Per utilizzare il ritracciamento di Fibbonacci, andate su TradingView o su BitGet, sul loro exchange direttamente. Qui trovate questo bottoncino qui, che è Fib Retrassment, andate a utilizzarlo, poi cliccate sul livello di minimo di partenza del trend e andate a posizionarvi sul livello di massimo della candela, dove il trend, diciamo, si è definito. Questo cosa significa? Che noi, prima di utilizzare i livelli di Fibbonacci, dobbiamo necessariamente avere la conclusione di questo trend. Ma non vi importa, ragazzi, sapere quando arriverà. Cioè, il primo movimento deve concludersi. Una volta che noi abbiamo superato il livello, deve concludersi e deve iniziare un ritracciamento. Qui le medie, vedete, ci vengono incontro, come in questo caso. Perché deve essere concluso? Perché se non è concluso, nessun ritracciamento di Fibbonacci può essere utilizzato, in quanto i prezzi non arriveranno mai ai livelli di ritracciamento, ma continueranno a salire. In quel caso, facendo un trend che potremmo definire un trend lineare. Allora, fatto questo ragionamento, andiamo a inserire, vi ripeto, clicchiamo sul tasto ritracciamento di Fibbonacci, dal minimo di partenza del trend che stiamo utilizzando, al massimo che ha delineato. Io mi sposto un po' in, alla mia destra, per avere più spazio e andiamo a disegnare i vari livelli. Ora qui vedete il prezzo che è già indicato, ma se noi andiamo a utilizzare, per esempio, TradingView, anzi faccio una cosa, ve lo faccio vedere anche su TradingView. Eccolo qui ragazzi, allora vi ho rimesso lo stesso grafico su TradingView e per farvi vedere la questione, cioè utilizzare la funzione di replay per farvi capire cosa succede. Allora qui abbiamo avuto l'inversione, in questo caso andiamo a breccare questo livello che era il massimo precedente prima dell'ultima fase, c'è anche questo livello che potrebbe essere utilizzato, ma anche in questo caso ragazzi c'è poca differenza in questa particolarità, perché anche se utilizziamo questo livello che può essere tranquillamente utilizzato, anche questo, non c'è mai un livello di inversione, se anche fosse comunque questa sarebbe un'operazione in ogni caso accettabile, anche in questo caso perché lo stop poi sarebbe molto vicino. Allora, in questa fase di ritracciamento, vedete, parte da qui, noi andiamo a disegnare il nostro livello di Fibonacci, qui lo disegniamo in questo modo e abbiamo alcuni livelli. Allora, intanto, i livelli più importanti di Fibonacci sono essenzialmente questi tre ragazzi, dalla 0,38 e 2, 0,5 e 0,61 e 8. Il più importante è questa zona qui, attenzione a non utilizzare i livelli come livelli al dettaglio, cioè al dollaro preciso, nel caso di Bitcoin, ma sono come arie, cioè un mercato tipo questo che arriva in questa zona può essere già che ha toccato il livello, quindi sarà all'interno di questa fascia di prezzo. Lo stesso in questa area qui disegniamo un quadratino, lo stesso in questa area qui disegniamo un quadratino, quindi intorno a questi livelli, mi raccomando ragazzi, va bene? Ora, per questo tipo di tecnica potremmo utilizzare diversi tipi di ingresso, per esempio dire, fare degli ingressi in DIP sullo 0,38 e 2, sullo 0,5 e sullo 0,61 e 8. Oppure dire, faccio un unico ingresso a 0,5 e rischio magari che non arriverà mai questo tipo di ingresso, oppure addirittura dico rischio solo se arriva fino a 0,61 e 8, faccio meno operazioni, ma se li prendo magari posso avere un margine di guadagno più ampio o uno stop loss più piccolo. Io in linea di massima questi tipi di strategie vi direi di utilizzare tre tipi di ingresso spalmandoli sul primo livello di Fibbo importante, 38,2, poi il secondo e il terzo livello. Mandando avanti in Replay e Bitcoin vediamo che in pratica scendendo ecco che tocca il primo livello di Fibbonacci in questa zona qui, quindi qui in questa fase avremmo avuto un primo livello di acquisto, che possiamo andare a disegnare utilizzando, facciamo così ragazzi, utilizziamo i rettangolini che mi piacciono di più, quindi prima fase di acquisto, vediamo se ci dà anche gli altri, seconda fase di acquisto, quindi secondo buy creato in questa zona qui e poi il terzo se lo tocca, perché non ricordo se lo tocca, vi dico francamente, no, non lo tocca. Ok, quindi qui avremmo in sostanza avuto uno o due ingressi, ma il terzo livello, che è quello appunto che vi dicevo, più lontano, può essere appunto che non venga toccato. Quindi in questo caso cosa succede? Che entriamo con due terzi della posizione, non con l'intera posizione. Questo è corretto, perché ovviamente noi ci teniamo un pezzettino di liquidità, qualora il mercato ci dà un prezzo ancora migliore. Fatto questo tipo di ingresso, possono succedere ovviamente due cose, cioè il mercato riprende il trend che ha già iniziato, attenzione che questa è una strategia di dip vera, quindi noi non siamo contro trend, noi siamo in acquisto sul ritracciamento di un trend che è già iniziato, ecco perché inizialmente attenderemo che il mercato inverta un trend ribassista, altrimenti saremmo puramente contro trend, cosa che non bisogna mai fare. In questo caso invece noi stiamo andando a comprare sostanzialmente un trend che sta ritracciando ma che è già iniziato, quindi qui a questo punto il mercato ha due possibilità, uno riprende il trend principale che ha già iniziato e ci dà il profitto, due non ritorna sul trend principale e ci manda in stop loss. La barra di congestione ha poco rilievo per i trader in tre day perché comunque avendo bilanciato le posizioni non ci creerà alcun danno alla fine della giornata usciremo perché facciamo trading in tre day quindi a noi interessa sostanzialmente anche se allungato diciamo al giorno successivo interessa sostanzialmente solo se ci manda in stop loss quindi se il trend in questione non viene mantenuto per il tempo che noi manterremo aperta la posizione quindi in sostanza se da qui il mercato non ce la fa a riprendere il trend superare questo massimo ma ritorna a scendere noi a quel punto qui avremo un altro acquisto intanto che è il livello di fibbo e poi inseriremo lo stop dove va posizionato lo stop sotto il minimo di partenza del movimento iniziale del trend sotto il minimo di partenza ragazzi un po' sotto non al livello del minimo va bene un po' sotto questo è un po' la natura classica di questo tipo di strategie attenzione che il livello potrebbe anche poi sussistere una barra di congestione dove il mercato fa una cosa del genere molti di voi potremmo dire questo e soprattutto potrebbe avvenire nel trading intraday che è molto rumoroso questo è giusto ma è anche corretto dire che questo tipo di attività di trading anche se il mercato fa una barra di congestione solitamente è una barra piccola quindi è molto stretta in un time frame da 15 minuti e non dà tanto spazio di stop loss quindi anche volendo la perdita sarà poco consistente a noi quello che interessa invece è posizionarci bene su un trend che potrebbe perdurare per un po' di tempo infatti io poi a livello di take profit vi consiglio comunque di non stare all'interno dell'unico giorno che andremo a utilizzare perché dipende dall'orario essendo che bitcoin quota 24 ore ragazzi per poter diciamo avere più margine operativo quindi più margine di eventuali guadagni allora in questo contesto preciso cosa succede qui il mercato ci dà lo slancio superando il vecchio massimo indica che il trend che noi abbiamo preso come ritracciamento in questi due punti è corretto quindi sta confermandoci che siamo dal lato giusto del mercato ci sta dando un profitto una volta che avviene questo tipo di breakout quindi questo livello viene il precedente massimo viene rotto indicando che il trend continua a livello rialzista dovete immediatamente posizionare un livello di stop superiore in modo tale da non perdere cioè quindi coprire tutto il vostro rischio si definisce quindi in pratica io vado a prendere tutto questo livello di stop quanto avevo rischiato adesso in questo caso il rischio possiamo calcolarlo semplicemente andando a utilizzare il range di prezzo tra questa fase di acquisto che è media e media e questo livello che dovrebbe essere giù intorno al 4% io vado sostanzialmente al 4% e vado a dire ok io rischiavo il 4% non voglio assolutamente perdere al di sotto di questo livello ora 4% in questo contesto non darebbe spazio dovete aspettare un pochino che si muova il mercato quindi potete magari attendere qualche oretta prima di inserire una cosa del genere e mettere il primo livello di stop semplicemente a break even cioè a livello della posizione in pratica andiamo a dire free roll il rischio zero cioè resto in posizione ma non rischio più il mio capitale quindi elimino quel 4% di stop loss vado a posizionare uno stop al pari del mio prezzo medio di acquisto cosa che si può tranquillamente fare ad esempio su bitget ragazzi andando a posizionare a indicare poi lo stop e indicando poi a livello di adesso non me lo fa fare qui perché dovrei avere una posizione in corso andando a indicare poi il livello in pratica di pricing come stop limit quindi molto semplice nel momento in cui dovesse essere toccato il vostro livello l'operazione viene chiusa pagate le commissioni ma non perdete più niente poi attendiamo che il mercato faccia la sua mossa e in caso ci prendiamo anche il resto vedete qui che il mercato si muove in maniera un po' da zig zag per questo vi dicevo non è in questo tipo di time frame che sono molto veloci non è molto intelligente stringere il cappio intorno al mercato perché dovete lasciare un po' di spazio per farlo muovere quindi io vi consiglio nella prima fase essendo che comunque il mercato vedete ci sta indicando che il trend è corretto quello che noi abbiamo preso perché siamo su un trend che è ancora a rialzo e non ha invertito nulla qui io consiglio di lasciare spazio e mantenere il break even che invece è essenziale da questo punto di vista dopodiché il take profit come deve essere posizionato ci sono due livelli di take profit il primo è al raggiungimento di un target ben determinato che non può essere calcolato sul time frame a 15 minuti dovete calcolarlo sul time frame daily ragazzi quindi un take profit che ragiona su un livello di resistenza che può essere interessante ma non sul time frame 15 minuti ma sul time frame del daily adesso lo vediamo oppure potrebbe essere interessante andare a ragionare di trailing stop aumentando appunto alzando il vostro stop loss man mano che il tempo passa sui minimi che il mercato crea con gli swing cioè in sostanza io ho comprato qui il primo swing vedete l'ha creato qui con una barra di congestione e dopodiché è tornato a salire lo stop loss l'ho posizionato qui più o meno al mio prezzo di break even poi ha fatto il resto vedete e io mi posiziono qui quindi e salgo il mio livello di stop in questo punto poi cosa ha fatto il mercato ragazzi è andato a creare un altro livello di massimo in questa zona dopodiché ha fatto un down e poi ha ripreso io potrei posizionare il mio stop qui e sarei liquidato con questo movimento ribassista e quindi in questo caso avrei comprato a questo punto e sarei stato liquidato qui in questo punto questo è il mio guadagno da qui a qui a livello tecnico in pratica dovrebbe essere vi dico subito anche il livello di percentuale di questo trade da questa zona più o meno a questa zona il 3% non è un livello di guadagno eccessivo ricordatevi che stiamo parlando di un'operazione che si è iniziata il 19 al dicembre alle circa 19 e 30 e si è conclusa il 20 dicembre alle 20 e qualcosa quindi appunto un giorno solo ragazzi oppure potrei decidere di andare a impostare un take profit a questo punto cosa devo fare devo andare a prendere il time frame daily e andare ovviamente sulla operazione che io sto tradando che è questa giornata qui del del 20 facciamo un po' qualche passo indietro così che ok noi stiamo ci siamo inseriti in questa zona quindi sostanzialmente andare a vedere qual è il livello di resistenza i livelli di resistenza possono essere questi qui ragazzi cioè i massimi precedenti sul daily vedete che sono abbastanza interessanti oppure potrebbero essere addirittura questi che sono quelli più alti quindi andare a prendere dei classici livelli di resistenza che sono i massimi delle candele precedenti tutto qui fatto questo livello io qui mi vado a inserire tp1 per esempio che possa essere l'indicazione diciamo del del livello di take profit sul daily tp1 e faccio anche il tp2 mettiamo maiuscolo dopodiché vado a riposizionarmi sul mio time frame a 15 minuti e vado a ridare il play che intanto avevamo dimenticato ragazzi ok vediamo quando arriva l'ingresso tra poco dovrebbe arrivare se non ricordo male eccolo qui perfetto adesso siamo anche in questa fase quindi oltre alla questione che vi dicevo potremmo aver impostato per esempio una prima uscita su questo livello qui che viene toccato in questa fase e poi una seconda uscita potrebbe essere alla take profit 2 che non so sinceramente se lo tocca oppure al trailing stop come vi ho detto che andava impostato precedentemente mi sembra che non lo tocchi più perché questo è il massimo di bitcoin quindi il massimo di questa fase di bitcoin detto questo vi ho spiegato un po' questo tipo di tecnica ragazzi cosa ne pensate sono strategie intraday sono strategie molto potenti ma soprattutto con delle logiche ben definite non sono consigli finanziari ma vi invito e vi esorto anche a ragionare voi stessi su questo tipo di strategie e su come poterle modificare seguendo quella che è la vostra soggettività che è molto molto importante infatti è molto importante andare a ricordarsi che le strategie di training hanno un obiettivo cioè quello di far sì che le vostre operazioni siano organizzate e precise puntuali possono essere soggette a studio per essere migliorate e soprattutto hanno un riferimento statistico e non sono casuali e non sono del tutto emotive come avete visto in questo contesto non abbiamo utilizzato nessun tipo di emotività abbiamo seguito il mercato tutta questa strategia portatevela a casa fatemi sapere cosa ne pensate soprattutto se la utilizzerete ovviamente provate prima in paper trading trading ve lo fa fare e poi in real solo con pochi dollari giusto per avere il brivido dell'errore emotivo ragazzi ma ovviamente senza danni di alcun tipo poi dopodiché cercate di comprendere se sono adatte alla vostra indole perché per fare questo tipo di strategie dovete essere formati preparati capire tutti i rischi e dovete avere chiari che queste strategie sono molto volatili quindi mai lasciare un trade di questo tipo senza lo stop loss inserito ok ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate buon weekend a tutti noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao